Mai, assolutamente mai ho avuto pressioni dai russi, dai loro rappresentanti, in nessuna forma. Assolutamente mai. Io immagino che se un mio collega avesse avuto veramente un'offerta di agenza, l'ebbia andato subito dai carabinieri, dalla località giudiziaria a denunciarla. Noi non abbiamo insistito su nulla, abbiamo semplicemente fatto uno studio di caso. C'è uno studio di laboratorio tra tre colleghe russe e delle nostre colleghe dello Spallanzani. Non c'è stata nessuna sperimentazione, cioè non è stata arruolata nessuna persona alla quale è stato inoculato il vaccino Sputnik. Nessuna. E' stato esclusivamente uno studio di laboratorio tra sieri di persone vaccinate in Russia con gli Sputnik, con persone vaccinate in Italia con Pfizer. Noi abbiamo incontrato qui tanti ambasciatori, ambasciatore messicano, ambasciatore israeliano, ambasciatore sudafricano, ambasciatore del Cile, ambasciatore del Canada. E' venuto nel giorno di ringraziamento qui allo Spallanzani l'ambasciatore americano. E' proprio in questi minuti che mi è arrivato un documento dei miei colleghi, di tutti i colleghi dello Spallanzani, che hanno espresso sdegno per questa frase. E lo Spallanzani non si sente affatto in imbarazzo. Anzi, per quanto riguarda all'incontro con l'ambasciatore, non si è trattato affatto di un incontro segreto, riservato. Sono stato invitato, come tanti altri, nel marzo del 2021 a Milano. Io però ho partecipato in call da qui ad un convegno sui vaccini. Insomma, c'erano tanti colleghi e tante autorità. E tra gli altri c'ero anche io. Ed abbiamo parlato, sai di che cosa? Dell'autonomia della scienza, del primato della scienza. Io ho portato lì un documento che era stato sottoscritto dal direttore scientifico dell'epoca, che era il professor Giuseppe Ippolito, e dal direttore sanitario Francesco Vaglia. Perché io ho sempre ritenuto, pur essendo questa una tematica di carattere preeminentemente scientifico, perché le ricerche, come tutti sanno, sono curate dai direttori scientifici. Però io, come dire, ho, come sempre, tenuto ad una unitarietà dell'Istituto e quindi questo, diciamo, documento, che si chiama, non a caso, il primato della scienza, della ricerca, il valore della scienza, sottolineava con quale spirito si faceva questo lavoro. che non è, come qualcuno vuole dire, abbiamo sperimentato o autorizzato. Non abbiamo sperimentato nulla, non abbiamo autorizzato nulla. Abbiamo sempre detto che saranno le autorità regolatorie a vedere se questo vaccino poi poteva essere autorizzato. Noi non eravamo il driver dell'autorizzazione di Sputnik. Non lo siamo mai stati. E non è questa la nostra missione. L'abbiamo detto in tutte le salse. E non è costato nulla. Ciascuno ha pagato il proprio. I russi hanno pagato le spese per le proprie colleghe e noi abbiamo pagato le spese di laboratori, di personale, credo che tutto si è ammontato, a 10.000 euro più o meno. Le tre colleghe che sono venute a Roma si sono limitate a questo studio di caso sui loro sieri che vedeva se funzionava su quelli che tenevamo noi. Non hanno avuto accesso a nessun dato sensibile. Assolutamente no. E l'abbiamo fatto, ribadisco, avendo cura di avere sia da parte del garante della privacy che delle autorità competenti, tra cui la Polizia Trasfrontaliera e del Ministero della Salute, tutte le autorizzazioni che erano utili avere.